Vino a chilometri zero e sostegno alla ricerca medica si incontrano nella rinnovata collaborazione della cantina cooperativa Torrevilla con Luca per non perdersi nel tempo. Un'associazione nata nella 2013 su iniziativa di Piera e Lorenzo Bassi per realizzare i desideri del figlio Luca, giovane psicologo di Torrazza Costa, è venuto a mancare a causa di un tumore nel 2011. Come ogni anno, da ormai otto anni in occasione delle feste, tornano i due vini Torrevilla con la speciale etichetta dedicata alla memoria di Luca, un bonarda e uno spumante extra dry per ogni bottiglia venduta. La cantina donerà un euro a Paviail, la sezione della provincia pavese dell'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e i mielomi per sostenere la ricerca e aiutare le famiglie dei ricoverati presso il Policlinico San Matteo. Quest'anno sono dieci anni da quando Luca è mancato, ma finché proseguiamo con queste iniziative, Luca non sarà un ricordo, ma una vita che prosegue per aiutare gli altri, hanno spiegato i genitori Piera e Lorenzo Bassi. È un grande piacere, un motivo di orgoglio continuare a supportare l'attività di Paviail, ha commentato invece Massimo Barbieri, presidente di Torrevilla, per la prima volta. Peraltro quest'anno ai vini solidali si affianca anche il Sorriso di Luca, un riso dell'azienda agricola Garavaglia di Gruppello Cairoli, che il titolare della riseria, compagno di stanza di Luca, ha voluto mettere a disposizione unendosi alla cooperativa al fianco dell'associazione.